Ciao a tutti e bentornati a Shadow Tactics Blades of the Shogun, l'ultima missione, tosta, 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 si va avanti un pezzettino alla volta, tutti i nemici si controllano fra di loro, il nostro obiettivo se non lo sapete già, andatevi a rivedere i video perché non serve a niente vederne uno ogni tanto di questi perché non si vede la misura di insieme e innanzitutto era prendere questa chiave, questo vestito secondariamente e alla fine andare a uccidere, Lord Noburu che se ne sta per ora lì dentro, tranquillo tranquillo, allora, noi teoricamente adesso potremmo andarci, ti ho detto che potremmo sparare l'oro perché tanto non ci sentirebbero, ma io non ho voglia di sparare l'oro, potrei andare in realtà ad ammazzare, adesso dovrò andare ad ammazzare quelli ma vatti a nascondere e una volta ucciso lui perfetto, voi direte che è facile eliminare sta guardia, certo è stata una fatica riuscire ad avere facilità di eliminare questa guardia che non ne avete idea ho ancora uno uno shadow mod attivo praticando tra l'altro va bene vado due si controlla una vicenda dovrei provare a saltare giù in realtà vediamo un po' tu vedi cosa? tu vedi tutto porca puttana come faccio a venire ad ammazzare voi due ad esempio dovrei passare qua dietro e uno lo ammazza in un modo, l'altro lo ammazza in un altro, come posso fare? allora facciamo un bel lavoro tu tarico sopra poi vieni qui bravissimo oh cazzo ci vede alla fine ci vede come? ok perfetto ora salta giù vediamo lui you know what to do what to do sembra che parli vagamente come super mario don't wait for me shuriken jutsu non ci arriva mi sa che dietro però non lo vede ammazzalo lui mentre invece tu che non so dove sei sei qua perfetto ah fanculo vieni qua va che palle ma quanto cazzo ci vede? avessi la la cosa di mu di la fiaschetta di sacchè sarebbe facilissimo questo pezzo ma purtroppo non è così quindi vediamo un attimino e se io semplicemente scusatemi è proprio per l'ignoranza mia se io facessi semplicemente così per quanto tempo rimane girato 1 2 3 4 proviamo e poi attiviamo subito lo shadow mod perfetto olè sei stato bravissimo amico mio sei stato bravissimo niente da dire su di te ora tu vai a recuperare quella roba lì questa roba è apribile ovviamente no e non ci tengono da me a cacciarli dietro in realtà perché è un bel disastro andasse a cacciarli dietro a cosa dobbiamo fare adesso è riuscire ad uccidere ma tu fin dove arrivi santo cielo tu fai il giro lì dentro concentrati prima che viaggiano un po' troppo sincronizzati questi stransetti poi lei potrebbe andarlo ad ammazzare se no se no stendo se no stendo lui che cazzo se ne frega lui lo stendo quando torna indietro è bono tanto poi fa come l'altro che soglia dalle palle probabilmente vediamo un attimino sto forse riuscendo a completare il gioco senza ammazzare un civile sarebbe una cosa fighissima devo dire va bene buttalo lì dentro perfetto vediamo se riesco a fare entrambe le cose allora tu no non fare così questo glielo facciamo fare invece no gli facciamo fare a lui di lanciargli lo shuriken però appena quello là si sarà tolto dalle palle cazzo lo controlla cazzo lo controlla e quindi come facciamo ci vorrebbe un altro che vada ad ammazzare lui ma lui è stra mega controllato perché il mio problema è che devo portare dentro l'altro il vecchietto quindi questi qua devo ucciderli di sicuro loro due dovrebbero uccidere lui ma è questo stronzo qua in realtà come cazzo faccio lui non si gira né si muove né niente concentrati 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 no tu rimani con un secondo scusami usassi lo slui per eh però poi immagino che tu da lì non riesci a sparare a lui laggiù vero no porca per pochino tra l'altro forse spostandosi un pelino più in qua lo vedi no è sempre di mezzo quella cagata della no vedi vedi ma porca no vedi in realtà solo che adesso dovrei andare a metterne uno là dietro solo che mentre guarda uno non guarda l'altro quello è il problema non ho possibilità di dire guardo uno guardo l'altro allora mi servi tu da cazzo sei finita ah sei dietro si fai giù bassa e vieni giù dove ti mando vai bassa cazzo che la rompi i coglioni anche lei quanto è rompi i coglioni quella cosa l'ho già detto la volta scorsa che voglio ammazzarla devo riuscire a togliere quel cazzo di civile del mezzo alle palle vede fin troppo bene sto civile della minchia dalla minchia dai però samurai di merda che il vento vi disperda su tanto di mezzo sto fottuto civile secondo me le cose non possono che migliorare una volta poi eliminato devo fare una roba di tutto in contemporanea uno spara l'altro ammazza e per ultimo lei gli da uno sparo lì questo è divertente questo è divertente non che la cosa mi tranquillizzi troppo perché in realtà adesso questo si sveglierà è carriera casino secondo me dovrei quasi ammazzarlo probabilmente però minchia sono riuscito ad non ammazzare nessuno fino adesso ma devo ammazzarlo allora tu vedi a nasconderli dietro tu poi però tu non mi puoi stare tanto nascosto perché poi mi dovrei ammazzare quello là vediamo lei lui da qua sopra anche se lo vede bene però ci stanno nascondendo cazzo di Buddha è arrivata lei ok ciao guardia prima che ciao guardia e mo vediamo se lui viene di nuovo riattira no scappa chiamato le guardie ma chi cazzo sta correndo sto figlio di buona donna minchia voi andate dentro per cazzo va lui dove sta andando dove non c'è più nessuno questo mi sembra abbastanza ottimo però vabbè dove non c'è nessuno lui è andato no se ne va che cazzo vai non potevi chiamare lei tanto non sarebbe mossa però perché non lo fa abbiamo perso l'occasione per stenderlo così malamente ah porco cane si che abbiamo perso l'occasione per stenderlo vabbè intanto lui l'abbiamo steso vediamo se lui riesco a dargli un pugno a toglierlo dalle palle non che serva molto ma magari va bene portalo qua vediamo se da lì ah di lì non va vabbè buttalo lì vabbè lui l'abbia steso abbastanza inutilmente volevo provare a eliminarlo ma questo è tornato ad andare avanti indietro come cazzo ci passo io qua ma lui tra l'altro ha buttato di là la cassa dai vieni io non voglio ammazzarti ma se mi obbligherai non potrò fare diversamente se mi obbligherai ma chi cazzo sta chiedendo aiuto chi cazzo sta chiedendo aiuto vediamo se rifà lo stesso giro noi nel caso lo buttiamo in ma lo buttiamo nella casa perfetto ora torniamo a studiare noi il problema è rimane questo che non è ammazzabile che lui lo controlla cioè questi tre si guardano perfettamente a vicenda è quello il problema quindi mi sto per curiosità mia questo stupido straw hat vede troppo e se sparassi a tutti e tre in contemporanea prima che lui come gli ammazzo vabbè lui è qua che è rinchiuso rintanato ma pazienza tu hai una pistola e potresti teoricamente sparare a lui si chi se ne frega lui mi aveva sgamato unione di volte per dare un colpo di pistola a testa ah lui però non lo prendi lui magari si però no quel cazzo che lo prendi per dare un colpo a testa vediamo se viene lì ma secondo me lo vede eh di fatti la vede eh di fatti la vede allora ci fosse il modo di ammazzare quel tipo da laggiù forse siamo a cavallo aspettate un attimo tanto quello lì ci vede per la centocinquantesima volta ma non è un problema perfetto allora annulliamo tutto e facciamo uno ah non lo vede però no 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 annulla si va bene aiuto aiuto c'è più nessuno da chiamare in aiuto perfetto vedi allora te ti faccio sparare a lui perfetto poi a te sempre in coso ti faccio sparare magari stanno un briciolino più lontani ti faccio sparare a lui perfetto si puoi chiamare le guerre quante volte vuoi ma tanto non viene nessuno basta si è rotto il cazzo e scappa oh finalmente ce n'è voluto di tempo a farlo scappare no non scappa porco cane dopodiché l'ultimo shift mod sarà lui lei che spara a lui perfetto forse 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 ce la possiamo fare uno e due no porca puttana per pochissimo però è perfetto il modo è perfetto il modo è perfetto è tutto caricato allora nel mentre ci aggiungiamo che tu viene ad ammazzare lui così lo facciamo ancora più in fretta vediamo se ok tutti andati finalmente finalmente abbiamo fatto piazza pulita bom tu sei sano non hai preso neanche un colpo ok perfetto tu qui tu qui e salutiamo tutti è stato un piacere oh finalmente sono riuscito a fare sto lavoro penso sia una delle cose più complicate che abbiamo mai fatto in sto gioco finora ok aver portato qua mugen potrebbe darci un piccolo aiuto innanzitutto perché intanto lui va a prendersi un po' di munizioni non è che ce ne sono anche lì sopra no direi di no deve prendersi un po' di munizioni andate in basso va perfetto ah di nuovo un po' di colpi ce li abbiamo poi venite tutti qua va perfetto ed entrate dentro ma quello dove sta andando dove va dove va sembri differente Takuma sensei credimi Yuki-chan mi sento più vivo di quanto sia stato in anni entrambi noi vecchio uomo Noboru non avrà speranze ma lui qua vede questo minchiona non vede un cazzo perché si vedono veramente si spiega una vicenda questi stronzetti potrei fare un triplo attacco? no e se facessi andare lei a prendere il vestito intanto? eh no no aspetta 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 devi passare dietro la roccia non davanti magari si riesce a passare dietro la roccia? ma dietro la roccia c'è un altro ma cazzo di Buddha Radra ma che cazzo è sta roba a tre? oh dio mio allora se sciuflo io ce ne sono la bellezza di tre che si guardano a vicenda quindi dovrei trovare modo di ucciderli tutti insieme credo che la cosa migliore sia portarli tutti dentro tra quei cespugli perfetto intanto lei è nei cespugli vediamo un attimino poi lei l'abbiamo portata nei cespugli lei possiamo ucciderlo così e lui gli facciamo sparare dall'altro questo guarda nella direzione sbagliata rimane lui il problema ma neanche tanto secondo me lui lo abbattiamo cazzo mi devo sbrigare mi devo sbrigare mi devo sbrigare perfetto ok perfettissimo cazzo 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 però secondo me non è infattibile no torna dove sei aspettiamo un attimino secondo me se io ne attiro uno qua in mezzo appena lui muore facciamo il giro degli ammazzamenti secondo me è una roba fattibile ma porca picciu che non sono altro stavo ancora controllando lui volevo far muovere lei ma lei ti riesco a far mettere la trappola senza alzarti ovviamente no no si l'hai preparata molto bene ora tu aspettiamo che scenda che lui passi e poi ti facciamo scendere dai tu passa perfettissimo ok allora uno lo ammazziamo con la trappola uno magari lo ammazziamo in un altro modo rimane il problema di sparare a lui non ci vedranno arrivare come invece si vi vedranno arrivare ma pazienza non è un grosso problema perfetto ora se va come previsto vediamo un po' se lei riesce a a tirare solo lui si perfetto quindi appena allora in shift mod no non tu ma tu lanci una freccia a lui tu sempre in spari a lui tu in shadow mod spari oh cazzo non puoi sparare a lui neanche a lui ma che merda ah beh aspetta aspetta non c'è problema non c'è problema non c'è problema quindi allora annulliamo tutto annulliamo tutto allora tu non puoi fare quello che voglio fare ma te la vengo a far mettere qui e ti mettiamo qui solo che da qua si sentono in due ma non importa il primo che arriva muore credo che sia lui nel mentre tu in shift continui a sparare a lui tu in shift ammazzi lui tu in shift spari a lui proviamo e poi se tutto va bene lei sarà quella che va ad ammazzare appena lui si sposta dai uno di loro venga cazzo cazzo a chi cazzo ha sparato in tutto questo mi sono perso in tutto è stato bello ma non ho capito chi ha beccato per primo ha beccato lui che in realtà può anche non starne lì ma può starsene tipo qui o tu che puoi startene qui e comunque sarai troppo vicino riproviamo vediamo vediamo no ma tutti ci hanno sentiti perché lui non l'ha ammazzato ah lui ha visto lui ha visto c'è ancora lui quindi non posso in realtà sbattere meno un po' il cazzo di tutti loro forse do se mi sento aspettare che lui stia da un'altra parte vieni vieni mazzalo perché lui spara e vede fino lì quindi loro non possono stare lì a meno che lui non aspetto che si stia spostando in qua e allora se aspetto che lui si sposti in qua forse ce la faccio proviamoci cazzo eh porca puttana ci ha visti è troppo tempo è passato lui in realtà vediamo un poco o sparo un doppio colpo oppure semplicemente faccio quello che stavo facendo cazzo se è bello però sto giro dai su togliti togliti dal cazzo ultimo tentativo cazzo mi hanno proprio sgamato va bene ragazzi è destino che non si faccia questa volta la prossima volta cercherò di mettere tutto un pochettino più a posto e di trovare una soluzione per questo problema ci vediamo la volta prossima ciao ciao se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace e se volete vedere altri gameplay di Shadow Tactics se non lo siete già iscrivetevi al canale grazie mille